Ameno è il luogo in cui sono nato, sono nato in questo cortile, luogo da cui sono partito, fin da giovane sono partito da Ameno, non so se volevo allora tornare o no ad Ameno, sta di fatto che sono tornato dopo molti anni, ho girato un po' l'Italia, ho imparato a dipingere e sono tornato qui ad Ameno nel luogo in cui sono nato, cosa sarà Ameno non lo so, forse anche il luogo della mia morte, per adesso è il mio rifugio, da dove parto ogni volta per andare a vedere le mostre, per confrontarmi, per mostrare la mia pittura, eccetera. E ultimamente Ameno è diventato anche un luogo di incontro dove vengono altre persone a incontrare me, ma altri artisti che vivono in questo paese.